Grazie a tutti. Il mio curriculum è pubblicato su Key4Bees, il giornale di Raffaele Barberio. Dunque, come introdurre i temi che provo a portare qui da voi oggi con grandissima umiltà, perché tutto funziona dal punto di vista tecnico, perché siamo tutti a metà di un percorso che non riusciamo, né a definire cosa sono stati gli ultimi due o tre anni, né a definire in che punto siamo adesso, ancor meno ovviamente a definire il punto di approdo. Ci troviamo in una di quelle situazioni conradiane, di nebbia, di incertezza, di vacuità e anche di ansia, alle volte di panico. Ed è vero, sono io il primo a provarle queste emozioni e credo le proviate anche voi. Tutto ciò premesso, è giusto che cerchiamo di guardare la realtà e di fatti la realtà è il vero punto. Noi abbiamo, dico noi nel senso, i produttori indipendenti di Torino, ci siamo riconosciuti eghelianamente come tali nel 92-94, in quegli anni lì, e infatti siamo abbastanza anzianotti, poi sono venuti fuori i giovani che hanno trovato quasi naturale l'autoriconoscimento che avevamo fatto noi, ma quell'autoriconoscimento che ci avevamo fatti noi non era affatto naturale, era il risultato di una rottura, di una rottura culturale e di una rottura di cultura imprenditoriale. Quindi, adesso, per me, 20 anni dopo, riparlare di quella rottura culturale è importante perché mi fa almeno sentire in equilibrio sulla motocicletta sulla quale cammino da un po' di anni. E dall'altra parte, perché in qualche maniera, nel trasferimento generazionale, forse c'è qualche piccolo valore che si può effettivamente utilmente trasferire. Proviamo. Il primo ragionamento fu ed è, in Italia il mercato non è solo viziato, non è solo asfissiato, è pervertito, è negato autoritariamente, è una grave, difficile condizione, quella in generale dell'impresa culturale in Italia, che sia editoriale, che sia audiovisiva, che sia di nuovi media, è una difficile, difficile condizione. Perché è vero che l'Italia è un paese libero, nel quale c'è libertà di espressione. Semplicemente, le cose sono congegnate in modo che chi si esprime liberamente è un pazzo che parla al vento. non si riesce a dare un corpo effettivo, non si riesce a creare un asset, un bene. Buongiorno, lo sciopero. Davide, ci siamo conosciuti a Perugia. Piacere di rivederti qui. Giulio, piacere. Dove stavo? Stavo, poi mi raccontate di voi appena finita questa piccola prolusione. Stavo sulle vere difficoltà delle industrie creative in Italia. Usiamo questo termine qui, delle industrie creative. Perché se diciamo industria culturale, rischiamo poi di malentenderci, perché c'è tutta una letteratura pregressa. Se io penso all'industria culturale, per come la definiva Benjamin, l'industria culturale da quel punto di vista lì in Italia è sanissima. Per fortuna sta andando a fondo, perché sta venendo sul web. Ma l'industria culturale, in quanto apparato che veicola idee mainstream, finanziate dalla pubblicità commerciale, ragazzi, ha funzionato magnificamente. Quindi parliamo di industrie creative, parliamo di editoria di qualità, parliamo di produzione indipendente. Allora, prima di tutto, asterischini per capirci sul vocabolario. La normativa europea sulla produzione indipendente definisce il produttore indipendente non come quello che si alza la mattina e si fa tre canne e poi prende un video e lo spara alla come viene, ma come quella società di produzione che non è controllata da un broadcaster televisivo. Quindi intendiamoci che per produttore indipendente si intende questa cosa qui. Non è una posizione ideologica, è una posizione precisa di una società di capitali all'interno della quale l'eventuale partecipazione di un broadcaster non determina una posizione di controllo sul produttore stesso. Qualora questo dato di non controllo da parte del broadcaster fosse controbilanciato da una forte maggioranza di acquisti da parte di un singolo broadcaster, anche in quel caso il produttore indipendente non sarebbe produttore indipendente. Quindi è produttore indipendente quella società che non è né in termini di capitale né in termini di mercato nelle mani di un broadcaster. Quindi abbiamo capito che cos'è il produttore indipendente, andiamo oltre. Ebbene, il produttore indipendente già nel 92 in Italia non poteva lavorare. A quell'epoca Rai autoproduceva, Mediaset autoproduceva, gli altri non esistevano e non c'era verso. A Torino è successo questo fatto magico, perché Torino è una città magica, quindi succedono i fatti magici, che a un certo punto due filmmakers se ne vanno a spasso per la periferia urbana, trovano una fabbrica abbandonata e un vecchietto che li porta su a bere un caffè da un balcone gli dice guardate laggiù, voi che fate il cinema sapete che cos'è? Uno studio. Uno studio? Sì, uno studio cinematografico, la FERT. E noi, perché i due eravamo Tiziana e io, Tiziana Ripani e io, guardiamo giù e all'improvviso riconosciamo le forme familiari di un grande studio cinematografico totalmente abbandonato, buchi di sei metri di diametro nei tetti, poi quando scendiamo squattiamo, passiamo in mezzo ai rovi, entriamo dentro, siringhe dappertutto, abbandono generale. Il piano regolatore prevedeva di radere tutto al suolo, di metterci, non so, un centro commerciale di Carfuro o qualcosa del genere. Diciamo no, adesso basta. Firmiamo opposizione, si chiamava osservazione al piano regolatore e diciamo che questa cosa qui potrebbe essere davvero utilmente a disposizione di produttori indipendenti che cominciano ad esistere e che guardano soprattutto il mercato europeo, dato che in Italia il mercato non c'è. Chi sono i tuoi che scappano? I nostri no, i nostri hanno continuato a pagare le tasse in Italia, a pagare gli stipendi in Italia, però il fatturato non fa tutto all'estero, che è stata una doppia fatica, perché è come emigrare ogni volta, e così siamo andati avanti per vent'anni. Adesso, perché salto gli elementi, voglio darvi un attimo le coordinate, come dire, un po' etiche di principio, di posizionamento individuale delle persone e un pochino di come operare. Ecco, noi abbiamo per vent'anni circa operato ogni impresa la migrazione del suo progetto, che significa una quantità di viaggi all'estero, di traduzioni di progetti, di ricerca di compratori chiamati coproduttori in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, nel Canada, nei paesi nordici, e poi di ritorno in Italia ogni volta che c'era un piccolo avanzamento del progetto per realizzare, dunque per pagare le collaborazioni e quant'altro. Cosa che ci ha resi, se vogliamo, molto elastici, su un certo piano, altrettanto deboli quanto eravamo all'inizio sul piano finanziario, abbastanza conosciuti sul piano delle relazioni con tante case di produzione. In tutto questo, la mia micro società, per tutte micro società, la mia micro società ha avuto un ruolo diverso dalle altre, perché noi non abbiamo prodotto. noi siamo stati, come dire, l'innesco dell'innovazione. Nel senso che, fin dall'inizio, che cosa avevamo fatto? Avevamo detto quello studio lì, così abbandonato, potrebbe diventare uno strumento per tutta la rete. A partire da quel momento, mentre i produttori della rete lavoravano sui loro progetti, noi lavoravamo sul progetto della rete. La dinamica è stata abbastanza utile. Allora, storicizzo un attimo per darvi l'idea. Nel 1994 ci dicono ok, avete fatto bene a fare questa osservazione. La accogliamo. Noi nel 1993. Noi nel 1994 presentiamo un progetto industriale. Diciamo, allora serve spendere, allora si parlava in lire, 5 miliardi di lire, in euro 2 milioni e mezzo, per ristrutturare intanto questo ambiente qui, circa la metà dei soldi, e con l'altra metà dei soldi per avviare una struttura editoriale che sappia essere servizio per tutti i produttori per realizzare rapidamente dei demo, perché già allora eravamo, ci era chiarissimo quello che più tardi Negroponte disse demo or die. Devi farli. le traduzioni, tutta quella parte editoriale che nel caso della non-fiction, del documentario, eccetera, fact-checking, la qualità di quello che stai facendo asseverata da una verifica di tutti i dati che vengono citati, eccetera. All'inizio il discorso di innovazione doveva essere quello lì, però siamo finiti nelle mani problemi della politica. E purtroppo, se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Inevitabilmente. E noi non ce ne occupavamo. il nostro progetto da due milioni e mezzo è diventato un progetto da 50 milioni di euro. A me è venuto male. Io ero nel consiglio d'amministrazione della società finto privata, pubblica completamente, ma finto privata, perché c'era scritto SPA vicino, che riceveva questi soldi per spenderli sulla base dell'obiettivo 2. Voi qui eravate zona obiettivo 1, non so se lo siate ancora, comunque di sicuro che di cose analoghe ne sono successe. Qual è il problema? Dici arrivano più soldi? Arrivano 20 volte i soldi che hai chiesto? Cazzo, fai dei salti fino al cielo della felicità? No. Perché? C'è un problema. Le imprese devono ammortarli gli investimenti. Tutti dicono ammortizzarli. Si dice ammortarli. Comunque, fatto sta che se io ho bisogno di questa bottiglia e questa bottiglia costa un euro, la uso, produco 10 euro e va bene. Ma ho pagato il mio euro e gli altri 9 vanno bene sul mio conto. Se io ho bisogno di questa bottiglia e lui invece di darmi la bottiglia se ne arriva con una fila di 30 camion di bottiglie, io continuo a produrre 9 euro con quei 30 camion di bottiglie e quei 30 camion lì mi rimangono sulle croste fino alla morte. Si è speso di più, si è fatto la felicità di un pari di costruttori, di un paio di venditori di materiali elettronici, si è speso soldi di tutti, neanche soldi di tutti i presenti, soldi di tutti i futuri, dei figli, dei figli dei nipoti. Fallimento, liquidazione una settimana fa. Io sono stato buttato fuori nel 2002, all'inizio del 2002, dopo tre anni di gestione in consiglio di amministrazione votavo dei no votavo dei contro. Se per caso andate in una si venite nominati consiglieri di una società a partecipazione pubblica imparate che dovrete sempre votare sì. Però imparate anche una cosa che se votate sì siete moralmente complici dell'inevitabile fallimento al quale quella società sta dirigendosi alla velocità della luce. Chiusa questa parentesi torniamo a noi. Cosa abbiamo fatto noi? Quello lì doveva essere un parco tecnologico. Ci hanno messi fuori. Hanno spesso 50 milioni si sono ficcati in testa che dovevano essere loro un'industria loro dei poveretti dei poveretti delle nomine politiche che fanno l'industria nel campo dell'audiovisivo sono partiti hanno trovato dei truffatori in America che hanno detto noi siamo vostri soci degli altri in Spagna che hanno detto facciamo un grande film e ci hanno speso qualche milione sopra nel conto dei 50 milioni ci sono queste cose qui cartone animato di lungometraggio fallimento totale per di più non mi ricordo se la Walt Disney o la Dreamworks che minacciavano di fargli causa perché avevano plagiato un asinello che all'epoca andava di moda ti rubo la bottiglietta prima che insomma i produttori indipendenti dentro quei cancelli non entravano e soprattutto i servizi di innovazione che di cui continuavano ad avere bisogno perché in tutto questo casino qui che cosa succede che tu scopri un posto dici era abbandonato lo tiriamo su i giornali parlano di te Le Monde Variety New York Times Financial Times a Torino un nuovo studio e poi venivano da noi e noi eravamo piccolini non avevamo quei servizi che erano chiusi da dentro ostaggio della politica il parco tecnologico l'ha fatto la Fairtrice con tutti i produttori nel 98 abbiamo fatto un primo progetto di ricerca si chiamava DeveloperNet il suo scopo era quello di provare a stabilire come dire una rete di sviluppatori di contenuti e di software per far camminare i contenuti sui nuovi media rete partecipata da tutte le case di produzione lo abbiamo fatto tra Italia e Francia e precisamente siccome quello lì che finanziava era il progetto Interreg Italia-Francia tra la provincia di Torino e il dipartimento di Nizza delle Alpi Marittime non è stato un gran progetto ma ha permesso di mettere giù due o tre coordinate essenziali ancora importanti adesso ed è per questo che ve ne parlo il punto è quando dei produttori indipendenti devono lavorare e non hanno un mercato al quale riferirsi prima di tutto devono uscire dai confini sia dai confini territoriali anche voi qui siete paesi di confine anzi voi siete la nobiltà del paese di confine se io penso a che cos'era la Fiera del Levante a che cos'era Bari nel momento in cui l'Italia faceva politica mediterranea aveva ambizioni e capacità di lavorare con il Mediterraneo quindi passare quei confini lì poi passare i confini dei mercati chiusi voglio dire senza affatto rinunciare ad una operazione di cittadinanza che è quella di dire ma rai pezzi di cacca come vi permettete di dire che rispettate le regole imposte dalla Commissione Europea ed entrate nella legislazione italiana sulla questione delle quote alla produzione indipendente quando qualificate come produzione indipendente le mega strutture alle quali attribuite il canone degli italiani mentre la vera produzione indipendente è tutta confinata in quel ghetto disgustoso che si chiama doc 3 impossibile inaccettabile quindi senza rinunciare a fare cittadinanza cittadinanza su quel punto l'altro punto è cercare un'alternativa e per fortuna quell'alternativa c'è si chiama web e oggi si chiama anche mobile apps non ve lo dico perché provo una eccitazione erotica ogni volta che sento una parola di lingua inglese anzi in generale penso lo penso anche per il tuo progetto che dei buoni titoli italiani se li cerchiamo bene sono richiabili in ogni lingua e funzionano in ogni lingua perché noi diciamo media ma media non è altro che è il plurale di medium insomma tornando il punto è noi oggi dobbiamo cercare di mettere dei contenuti nuovi su dei vettori nuovi questo è lo scopo per il quale ci ritroviamo qui questo è lo scopo per il quale io ringrazio la regione Puglia di avermi invitato a questo vostro corso e sono felicissimo di conoscervi perché ognuna delle idee che ho sentito fino a questo momento è proprio non dico in linea con lo scopo è carburante energia per cercare questo scopo quindi incoraggiamoci reciprocamente perché ci siamo allora a che punto siamo perché dicevo siamo in un momento così incasinato cerchiamo di definire questo punto io provo a definirvelo come l'ha definito a me Mark Atkin che è un tipo intelligente che io amiro tanto lo trovate se vi interessa sul nostro sito quello lì trancemedia.eu nella zona news a un certo momento un po' in basso c'è un quadratino diviso in 4 quadrati lì c'è un micro orribile web documentario fatto non dico con 4 soldi con 0 soldi e con una macchinetta video anche inadatta a girare in Italia perché c'è di quelle lì che girano in America comprata per due lire in America che però riunisce le opinioni di Mark Atkin di Arnaud Dressan soprattutto le loro due poi c'è anche un ragazzo che fa il consulente per per Rai nella programmazione culturale una brava persona molto ben focalizzata purtroppo in un ambiente completamente da rifare ma comunque lui è focalizzato per quello che può ebbene Mark Atkin lì dentro dice intorno alla metà del 2014 notare che questa cosa lui l'ha detta nel 12 forse no forse alla fine dell'11 addirittura ha detto intorno alla metà del 2014 grosso modo la maggioranza dei televisori di salotto sarà connesso internet sta succedendo questo insieme alla pervasione dei sistemi mobili degli apparecchietti smartphone genera un cambiamento totale dello scenario ed è quello che vi dice anche non lo esprime in quelle parole lì vi dice anche Barberio in questo articolo allora guardiamo un attimo che cosa significa intanto prendiamo atto del fatto che i broadcaster sono bestie dure a morire specialmente un attimo prima di morire diventano particolarmente rabbiose mi fa pensare a un vecchietto che è stato al governo in Italia negli ultimi anni stanno cercando di condizionare i produttori i distributori di questi schermi in modo che sullo schermo appaiano solo loro ma la gente non è mica pirla cioè quando il televisore te lo sei messo nel salotto te lo sei attaccato alla linea telefonica e hai cominciato a smanettarlo un po' quelle quattro icone del cavolo che ti hanno messo sullo schermo appena le accendi te ne fotti le cancelli le sostituisci con quelle che piacciono a te morale si apre forse uno spiraglio nel buio della nostra condizione e poi le app altra roba che quando a me Mark Hattkin l'ha detta la prima volta che me l'ha detta era nel 2010 e a me è sembrato poi magari qualcuno di voi invece nel 2010 già queste cose le sapeva tu magari io no però nel 2010 lui mi fa eh le app e io avevo appena imparato che cosa voleva dire app perché qualcuno me l'aveva insegnato eh le app ci vendi documentari con le app fai un documentario lo metti in un server poi vendi l'app col titolo del documentario e la app diventa il telecomando per chiamare il documentario wow che illuminazione ragazzi cioè mica uno scherzo eh allora questa qui è la condizione adesso fine 2013 Italia in ginocchio eh disoccupazione con tutti tutti i guai che abbiamo però noi in questo mestiere possiamo dire una cosa che mi ha detto sempre per parlare di inglesi una volta se ne viene a Torino in una delle tante European Days Transmedia Days Transmedia Bridges Borgfeld Bridge eccetera se ne arriva questo signore un dio della BBC gli altri inglesi come passava lui riverivano sembravano 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 un po' tentato medio orientale invece era un grande dirigente della BBC c'erano gli inchini ma la giapponese veramente e lui mi fa con la pentola a pressione che siete voi in Italia sull'informazione e sulle televisioni se c'è un mercato praticabile per i produttori indipendenti è proprio questo beh sì perché oh non c'è l'alternativa appena appena esce un minimo di alternativa però deve essere costruita bene allora benissimo queste sono le condizioni che diciamo guardiamo una realtà rabbrividiamo tremiamo e inspiegabilmente abbiamo un ballone di ottimismo con questo chiudo un'introduzione e vorrei fumare una sigaretta se mi autorizzate dunque per dirvi dove adesso meno comiziescamente per dirvi dove vorrei arrivare oggi noi facciamo al 13 di dicembre sì sì a lei arriva il suono al 13 di dicembre a Torino facciamo una cosa che è l'edizione di quest'anno di Transmedia Bridge praticamente con voi quest'oggi faccio una piccola prova generale di quella cosa lì quindi il Transmedia Bridge ve lo lo facciamo insieme ad un livello ancora embrionale il suo scopo quello di quest'anno è qui siamo cominciamo da qui e poi vediamo Torino qui siamo in una classe messa su da una realtà istituzionale che ha avuto il sano spirito di chiamarsi se non ero produzioni dal basso laboratori dal basso bene parliamo di produzioni associate invece che di coproduzioni quindi questo è lo spirito generale della giornata spirito che si può ritrovare anche nell'articolo che vi ho distribuito di Raffaele Barberio che vi prego di leggere non è il Vangelo è semplicemente l'articolo di uno che si occupa di telecomunicazioni in generale e che si è reso conto che i contenuti possono avere nuovi vettori nuovi mercati e che lo dice onestamente ai suoi lettori sono il ritratto che fa del panorama web e dei nuovi media è quello di un professionista delle telecomunicazioni che rispetto che ha a cuore la cultura italiana e le industrie creative l'ultimo paragrafo che è una incitazione al Ministro della Cultura ad aiutarci e supportarci certo la approvo non è però nelle mie corde io sono un liberale un liberale di stampo torinese gobettiano di quelli che vogliono anche la concorrenza fra la borghesia e il proletariato e soprattutto quelli che vogliono la possibilità per i piccoli di competere in un mercato equo dove ci siano anche i grandi ma dove i piccoli non siano necessariamente i subcontractor dei grandi allora questo definito dato per scontato tutto quello che vi ho detto prima cerchiamo concretamente di trovare delle soluzioni che siano praticabili sperimentabili in questa fase di incertezza pensando che i contenuti che abbiamo in mente un po' tutti forse potrebbero trovare le gambe che non sappiamo ancora quali siano precisamente in questo nuovo scenario inutili le attese messianiche quello che serve è l'impegno personale il lavoro l'attenzione alla qualità di quanto stiamo facendo e anche una certa quantità di attenzione a dei dettagli non certo irrisori quali sono per esempio i contratti ci arriveremo tra poco adesso vorrei chiedere ai due signori che sono arrivati mentre stavo parlando di dirci grosso modo rapidamente con quale progetto sono qui se hanno un progetto quali sono le loro realtà di riferimento dal punto di vista produttivo insomma in generale come si collocano in questa classe in questa prospettiva di riferimento di questo laboratorio. Abbiamo una piccola ma frenetica e fantasiosa casa di produzione. Stiamo lavorando su diversi progetti, tra cui anche diversi progetti trasmediali. Uno, il più importante per noi, è questa collaborazione con Al Jazeera. Vedrà il lancio verso la fine dell'anno, su cui stiamo puntando molto. E poi parallelamente tanti altri più piccoli progetti. Sono qui entusiasta di ascoltare queste fantastiche contaminazioni che in questi giorni sono pervenute da tutti i docenti arrivati finora, nonché oggi da lei. Perché insomma sono tanti input che poi ritroviamo realmente, praticamente e tangibilmente nel lavoro che facciamo. Quindi ci tengo solo a sottolineare che veramente non c'è niente di più concreto di quello che abbiamo ascoltato in questi giorni e di quello che nella piccola parte in cui ho partecipato Saman e sto ascoltando oggi. Posso chiedere, Altera è una SRL? Una SNC. Una società in nome collettivo. Sì. Quindi siete una società di persone e non di capitali. Siamo due soci. No, siamo due soci. Ci siamo catapultati in questa pazza idea all'incirca tre anni fa. Stiamo sopravvivendo e stiamo sopravvivendo bene, quindi questo ci rende anche molto fieri. È verissimo che stiamo sopravvivendo anche e soprattutto in virtù del fatto che abbiamo avuto la fortuna, non so, forse anche la capacità, come ha ben detto lei dieci minuti fa, di pensare subito di valicare i limiti territoriali del mercato. A distanza di un anno e mezzo di lavoro estenuante, da questo punto di vista, stiamo cominciando ora a vedere i primi frutti, perché non è neanche una cosa semplice quella. Come dire, ci vuole tanta capabilità. Soprattutto quando sei piccoli, piccolissimi. Se tu dovessi, uso il tuo e prego di reciprocare, se tu dovessi definire Altera, la collocheresti nel campo del documentario creativo, del nuovo giornalismo o di che cosa? Assolutamente nel campo del documentario creativo. Quello è il nostro obiettivo, è quello che stiamo cercando di fare. Questa opportunità, questo lavoro che stiamo facendo per Al Jazeera è il primo step, logicamente. Noi stiamo, anche se insomma è un prodotto un po' più particolare, qui stiamo rielaborando un'inchiesta di Juliana Rufus per People Empower, quindi diciamo un'inchiesta investigativa nel formato web doc, nel formato interattivo e transmediale. è un lavoro lungo, lo stiamo portando a compimento e speriamo che avrà una discreta risposta. Parallelamente abbiamo anche già fatto altri piccoli progetti in questo senso e tanti ne abbiamo in cantiere da sviluppare. È inutile che io ti dica che parallelamente a questo la nostra piccola casa di produzione deve occuparsi anche di tante altre cose. Lavoriamo anche tanto nel commerciale, insomma, lavoriamo anche tanto. E quindi insomma diciamo che la sfida è proprio quella, cercare di venire fuori dalla dinamica del posizionamento della pulce, che si posiziona ovunque all'inizio e cercare di poter, nell'arco del più breve tempo possibile, rivolgerci al mercato come un'azienda specializzata unicamente in prodotti transmediali e di documento elettrico. Io sono Giulio, sono quello che si può dire, in Italia viene chiamato cooperante, operatore umanitario, mettiamola così. Sono di rientro, l'ultima missione è stata in Sud Sudan, sono stato lì circa due anni e mezzo e in passato ero stato prima in Libano poi in Burundi. Sono un amico di vecchia data di Davide e abbiamo sviluppato insieme un progetto quando io ero in Burundi, grazie ad Altera è stato realizzato un girato, diciamo un documentario per raccontare una certa realtà. Questa è una cosa molto interessante perché nel settore della cooperazione internazionale non c'è una grossa attenzione a sviluppare prodotti di una certa qualità che raccontino in maniera anche un po' distaccata e indipendente quello che poi in realtà avviene. Quindi mi sembra una cosa molto interessante, abbiamo sviluppato quel progetto e sicuramente svilupperemo altri progetti in futuro, non si sa ancora come e quando, ma a breve dovrei partire per l'Afghanistan e quindi dove già Altera ha sviluppato un progetto con un'altra organizzazione e quindi magari qualcosa si riuscirà sicuramente a combinare, speriamo di fare qualcosa ovviamente, spero di poter dare una mano ad Altera a sviluppare qualcosa di qualità. Bene, bene. Allora, cominciamo ad entrare nella dura materia odierna. Vi assicuro che la durezza di questa materia lo è altrettanto per voi quanto per me. Io voglio subito portarvi nel terreno che mi è poco confortevole, non in quello che mi è confortevole. Poi cerchiamo magari verso fine giornata, via via che le nostre energie diminuiscono, di andare su delle aree che sono più facilmente praticabili. Partiamo da quelle più ostiche per adesso, perché adesso è il momento fisiologicamente più indicato per fare le cose più difficili. Abbiate un attimo di pazienza che devo ritrovarmi sul computer. Allora, guardiamo questa, come vedete è la relazione del computer. dottor Francesco Barone, io lo ringrazio a distanza, sono imbarazzato per la ripresa che state facendo perché io non ho affatto i diritti del dottor Francesco Barone, il cui scritto mi è stato trasferito dalla commercialista per dare a me una introduzione sull'associazione di partecipazione. Permettetemi due righe di filosofia spicciola prima. L'innovazione, che cacchio è l'innovazione? È uscire dalla propria zona di comfort. È fare un'attività minoritaria fuori dalla propria zona di conforto. È un atto vagamente masochista, largamente velleitario, al quale si dà un risultato positivo nel momento in cui si agisce responsabilmente, però mantenendo sia il masochismo sia il velleitarismo. L'associazione in partecipazione è definita come un contratto attraverso il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. È diversa dalla coproduzione, perché la coproduzione per noi italiani, sino a che Rai non sarà girata come un guanto, è impossibile. Allora, è lo strumento con il quale due realtà, non una lassù e una qua giù, ma due realtà più o meno allo stesso livello, due o più, si accordano fra loro per generare un contenuto e distribuirlo in maniera indipendente. È una ipotesi di lavoro, potrei anche fermarmi qui dicendovi approfondite l'associazione in partecipazione, ma già che la mia commercialista ha avuto la bontà di farmi conoscere queste cose, tanto vale che le faccia conoscere perché è un bignamino. Vediamolo insieme e così proviamo. Le parti contrattuali sono due, l'associante che gestisce in via esclusiva l'impresa o l'affare e risponde ai terzi delle obbligazioni assunte, e l'associato che non può gestire l'impresa o l'affare ma ha l'obbligo di conferire l'apporto, ha diritto al controllo sull'attività dell'associante, ha diritto al rendiconto, subisce il rischio di perdite nel limite massimo dell'apporto. Bene, soffermiamoci a capire bene questi due paragrafi. L'associante nel nostro caso è la società di produzione che ha avuto l'idea e che pensa di avere intuito quale sia il canale attraverso il quale portare il futuro del progetto, la futura realizzazione del progetto al suo pubblico. L'associato è quella struttura che contiene capacità creative, tecniche, alle volte commerciali, che l'iniziatore non riesce ad avere al proprio interno. Morale, sono due microbi, però messi insieme formano una certa capacità operativa e quindi si associano senza bisogno di fondersi, si associano per quel progetto lì. Andiamo a vedere le paroline per capirle tutte. Gestisce in via esclusiva l'impresa o l'affare, gestisce in via esclusiva l'impresa o l'affare, vuol dire che di solito è l'associante che ha in mente il modello di business ed è lui che andrà a parlare con le persone che potranno decidere di veicolare o di non veicolare. Quindi ha un'idea iniziale e una capacità, diciamo, commerciale, uno schema distributivo in mente. L'associato è colui che conferisce l'apporto. Io vi dico un'esperienza di Fairtrice in questo momento. Dopo tanti anni in cui abbiamo fatto, come vi dicevo prima, il Dipartimento di Innovazione della Rete dei Produttori di Torino, in questo momento, sempre un po' svolgendo quel ruolo lì. Stiamo cercando di andare su delle strade nuove e nell'andare su queste strade nuove abbiamo alcune risorse interne che ci permettono di fare certe cose, altre ci mancano completamente. Esempio, e sento l'assenza anche intorno a questo tavolo di quelli che mi mancano a Cipicchia, se lo sapevo non venivo in Puglia, HTML5. Gente strabrava ad usare HTML5. Bisogna trovarne. Qualunque sia il vostro progetto, cercate della gente strabrava a usare HTML5. Ecco, io ho bisogno di una società che sappia usare bene HTML5 per mandare avanti i progetti che abbiamo in questo momento. Le proporrei subito di associarsi su tutta la serie di progetti che abbiamo. Elementi del contratto. L'associante deve svolgere un'attività economica a scopo di lucro. Ah no, scusatemi, volevo tornare, guardiamo bene il secondo paragrafo dei contraenti. Ha l'obbligo di conferire l'apporto, quindi in questo caso per esempio l'apporto sarebbe HTML5. Ha diritto al controllo sull'attività dell'associante, cioè bisogna escogitare un modo per cui l'associato è certo di quanto l'associante percepisca. Perché se l'associante, l'iniziatore incassa 50.000 euro e dichiara all'associato che ne ha incassati 5.000, lo frega la grande. Quindi bisogna escogitare il modo. Poi vi dirò a che punto è lo stato dell'arte in questo campo. Ha diritto al rendiconto. È una necessaria conseguenza della frase che precede. Il controllo equivale al rendiconto. Subisce il rischio di perdite nel limite massimo dell'apporto. Cioè l'associante, se le cose vanno a catafascio, l'associante non perderà mai più di quanto ha messo nel lavoro. Non è diventato socio di quell'altro. Non si sono sposati in regime comunitario. È diventato, ha messo a rischio il proprio apporto. Né più né meno. Allora, gli elementi del contratto, adesso credo che l'abbiamo capito tutti, no? Questo principio qua. Non vi faccio le 3.000 slide. Però almeno capiamo queste cose essenziali. Gli elementi essenziali sono l'associante deve svolgere un'attività economica a scopo di lucro. Cioè le associazioni non possono proporre contratti di produzione associata. Lo possono proporre le società operative. L'apporto prestato dall'associato all'associante deve essere definito con chiarezza. La partecipazione agli utili attribuita dall'associante all'associato deve anche essere definita con chiarezza. Basta la percentuale, ovviamente. La durata del contratto non è essenziale ma consigliabile. Aggiungerei una piccola postilla sulla base delle cose che mi sembra di aver capito fino a questo momento che un contenuto come quelli di cui ho sentito accennare da voi e come quelli che abbiamo noi in programma in questo momento può avere un ciclo di vita ragionevole diciamo di due anni dal momento della pubblicazione. Non vorrei annoiarvi con questa roba che ve la faccio vedere quanto è lunga. Non vorrei proprio distruggervi però se avete pazienza andiamo a cercare un attimo insieme gli elementi più importanti. L'associante, risposta ad Andrea chiacchierata ieri sera al ristorante, deve essere sempre un imprenditore sia individuale, può essere una partita IVA, sia sotto forma di società, può essere un SRL, può essere un SNC, non può mai rivestire tale figura all'esercente arti e professioni, ma qui mi sembra che di liberi professionisti tranne forse l'architetto non ne abbiamo. Sei iscritto all'albo degli architetti? Allora non lo sei neppure tu. Ok. L'associato, non lo definisce da qualche parte? Ecco, saltiamo all'associato, poi magari torniamo su un attimo. È il soggetto che corrisponde l'apporto e riceve gli utili prodotti dall'associazione. Notate che qui stiamo parlando di associazione non nel senso senza scopo lucrativo. Stiamo parlando di un'associazione che non si costituisce davanti al notaio, o meglio, si costituisce davanti al notaio sotto forma di AIP. La sigla, come c'è S-P-A-S-R-L, è la AIP, associazione in partecipazione. Tale figura, quella dell'associato, è caratterizzata da una partecipazione predeterminata al rischio di impresa limitata all'apporto e dalla mancanza di poteri di gestione nell'impresa o nell'affare. Chiunque può rivestire la posizione contrattuale di associato, anche un esercente di arti e professioni. Adesso, in realtà, questa grande limitazione, mancanza di poteri di gestione nell'impresa o nell'affare, è qui espressa in maniera un po' troppo radicale, perché l'associato deve comunque essere sempre informato dell'arrivo di nuovi associati e può rifiutare l'arrivo di nuovi associati. Quindi non è del tutto sprovvisto di potere sull'affare. Vi faccio un esempio concreto. Immaginate che l'associazione in partecipazione per una produzione associata di un contenuto alla fine equivalga, grosso modo, a quel tabulato nel quale sono definiti i millesimi di proprietà in un condominio. Cioè, alla fine, il tabulato dice che normalmente abbiamo l'associante, l'iniziatore e quello che si è preso, che ne so, l'attico e il giardino, per cui ha più millesimi degli altri. Poi ci sono gli altri che hanno varie quotazioni. Se se ne porta uno nuovo dentro, per esempio, che ne so, riducendo, aumentando, costruendo, i millesimi di tutti vengono a scendere di tutti gli altri. Ecco, questa operazione non può essere effettuata senza il consenso di tutti. Qui si pone un problema interessante. Scusatemi se taglio i punti perché vedo che siete persone intelligenti e non ho voglia di insistere sulle banalità contabili, che banalità non sono perché se le sbagli poi sei fregato, ma questa roba qui poi ve la mando e ve la leggete con calma per i fatti vostri. Vengo su un punto interessante. Poi quando parliamo editoriale è più facile, lo capirete meglio, però. UGC, User Generated Content. Il contenuto generato dall'utenza, normalmente cerchiamo di farcelo regalare dall'utenza stessa, però non è detto. Se vogliamo, vale la regola Chris Anderson 100% nell'internet quando una cosa è gratis è un gadget. Cioè, se è gratis non vale un tubo, non c'è mica tanta speranza. O è sponsorizzata e il suo non corrispettivo economico nasce dal fatto che introduce dentro al contenuto l'interesse privato dello sponsor, magari in maniera fittizia, nascosta. Allora, francamente è odioso nella non fiction. Ci sta bene se un personaggio di un film di finzione prende in mano quella bottiglia e fa vedere l'etichetta. Ce può sta. Ma se stiamo occupandoci di agricoltura e a un certo momento mettiamo dentro l'etichetta della Monsanto, non è che ci occupiamo tanto bene di agricoltura. Allora, è un gadget. Se è gratis per lo spettatore, per l'utente, se è gratis è un gadget. Quindi deve essere pagante. Anche il contenuto generato dall'utente, com'è irritante quando leggiamo giornali web, anche di buona qualità, a me piace il lavoro di Gomez sul fatto quotidiano web, però com'è irritante quando leggiamo dei commenti, cioè proprio soltanto insulti. Ultimamente è un po' cambiato. Eravamo arrivati alla nausea tutti di quel tipo di cose. Poi le redazioni si sono date un po' da fare, a moderare, a definire, a imbogliare, a non dire sempre le solite belinate. Però se quello è l'user generated content che vogliamo, non aggiunge niente al contenuto e possiamo lasciarlo tranquillamente a dormire a casa sua. Se invece vogliamo dell'user generated content di qualità, perché non riconoscergli un pezzettino di proprietà? Ecco, questa è la prima riflessione per chi pensa, da quella parte lì, no? C'è un user generated content. Penso di mettere su una cosa con user generated content. E perché non fare un modello di associazione in partecipazione? Semplificato, tradotto in lingua chiara per tutti, non pesantemente, come dire, contabilistico, che però riconosca a chi fornisce del contenuto di qualità validato in quanto tale dal produttore, dall'editore, dal suo direttore creativo, dalla sua redazione, non soltanto moderato, non uso il termine moderato, uso il termine validato. Allora, se è validato, riconosciamogli il suo pezzettino. Tanto più che gli analytics digitali ci permettono di considerare, per esempio, quante impressioni abbia avuto quel contenuto lì. e quindi ad un certo punto di dare a Cesare esattamente quello che gli appartiene. ho fatto tutta questa digressione per dirvi associante normalmente è un produttore, associato è spesso un altro produttore, associato può anche essere una persona fisica, associato può anche essere una persona giuridica senza scopo lucrativo, un'associazione tradizionale, associato può anche essere un lettore che ci fornisce del contenuto da lui generato che la redazione valida e riconosce in quanto tale. Qui il discorso si amplia verso qualche cosa che spero avremo l'energia questo pomeriggio di sviluppare un pochino insieme, magari a partire dai vostri progetti, sul tema come faccio a rendere non popolare ma partecipativo il mio progetto. Perché il punto essenziale poi alla fine è quello lì. Riesci a costruire queste cose nel momento in cui esse rispondono ad un bisogno presente in generale nella società ma in specifico in alcune sacche, in alcune nicchie, nicchie che possono anche essere grandi grotte come quella di Postumia o piccole nicchie in ogni paese ma trasnazionali che alla fine fanno uno spazio importante. E per mirare a quelle realtà lì per capirle bene la partecipazione è essenziale. Non è una opzione una cosa che rende il mio prodotto più figo più web2 ma è una cosa che serve a noi redazione al nostro gruppo di lavoro per capire come orientarlo questo contenuto. La reazione del pubblico è quello che il pubblico ti dice via via. Ti fa scoprire degli angoli che non avevi considerato, dei nuovi punti di vista. Non è detto che tu lo debba seguire pedissequamente, non è detto che qualunque cosa tu riceva sia la cosa alla quale obbedire però se riesci a sollecitare e se riesci a ricevere considera quello che ricevi consideralo attentamente e dai forti motivazioni all'utenza per partecipare incluse le motivazioni economiche in certi casi. qui l'argomento va a toccare anche nuovi aspetti quelli per esempio del giornalismo investigativo. Noi in questo momento stiamo sviluppando un contenuto nel quale l'interazione con l'utenza potrebbe essere precisamente basata sul fatto che l'utenza su certi aspetti del contenuto che sviluppiamo conosce più di noi che siamo in redazione. Noi siamo in redazione ci siamo detti questo tema è da investigare e poi hai l'utenza che sa un dettaglio di quel tema lì che diventa essenziale che permette di connettere due elementi di sapere fra di loro o più elementi di sapere fra di loro e che aumenta il valore dell'insieme della ricerca che stai facendo. Tenetelo presente perché è importante. nell'associazione in partecipazione hai questa possibilità. Adesso torniamo all'associazione in partecipazione in quanto tale per un momento per considerare un altro aspetto. Quando mettiamo su una società o il peso delle imposizioni sul lavoro è troppo alto alla fine abbiamo delle società di produzione a zero dipendenti o con uno o due dipendenti perché non non si riesce a pagare tutto quello che si deve pagare per le risorse umane. Cioè le risorse umane riesce a pagarle quello che non riesce a pagare è tutto quello che uno stato deficitario ti chiede e ogni tanto tu pensi ma me lo chiede soltanto perché è deficitario soltanto oppure perché vuole che noi stiamo sotto ai grossi non lo so comunque sta di fatto che delle alternative dobbiamo cercarle. Ora l'associazione in partecipazione se io sono una società che si occupa delle pulizie delle scale di questa scuola e propongo le ragazze rumene l'associazione in partecipazione sono uno schiavista se però sono una società di produzione che propone l'associazione in partecipazione a un regista a un direttore di fotografia a un autore di musiche a un autore di montaggio non sono uno schiavista gli sto soltanto dicendo se crediamo in questo progetto entriamoci tutti io lo capisco quando un gius lavorista dice le associazioni in partecipazione non sono un modo corretto di gestire le risorse umane lo capisco se si riferisce al manifatturiero lo capisco se si riferisce a servizi senza particolare valore aggiunto nel nostro caso dobbiamo avere invece il coraggio di affermare nell'associazione in partecipazione tra persone che sviluppano opere di ingegno ecco aspita c'è lo spazio c'è l'equità del rapporto pratichiamolo allora da quel punto di vista lì un elemento da tenere presente è questo prendiamo Elena di Ieri lei è montatrice secondo le norme italiane il montatore cinematografico non partecipa all'autorialità è ingiusto non è giusto non è giusto neanche per il montatore cinematografico da Eisenstein in poi è veramente chiaro per tutti che l'atto del montaggio è il supremo atto creativo nel cinema lineare tradizionale però le cose si sono messe così bene fortunatamente nel nuovo campo dei nuovi contenuti digitali l'ingegnere di database è invece autore Elena che mette insieme la library di tutti i vari contenuti e che li dispone secondo le gerarchie dello storyboard di Clint cosa sta facendo sta montando un database quindi è totalmente dentro al discorso del della prestazione di ingegno del lavoro non della prestazione ma dell'elaborazione di opera di ingegno allora qui dobbiamo parlare un po' inghilese ecco non guardate le parole guardate la riga qui questa è the line quello che sta di sotto lo chiamiamo below the line e quello che sta sopra lo chiamiamo above the line vi è familiare questo? si? a qualcuno? si? ad altri no? allora mi spiego meglio l'insieme è l'opera che stiamo facendo questo discorso the line below e above vale per gli attori per tutti i ruoli creativi per gli attori per gli sceneggiatori per gli autori delle musiche per i montatori nella cezione che ho testedetto e per il direttore di fotografia prendiamo la torre che è il caso più semplice poi lo capite da soli connettete voi da soli la torre ci mette la faccia però ci mette anche la posa nel senso che la posa che cos'è? la sua giornata di lavoro quella mattina la produzione lo chiama ad essere in quel posto lì alle 6 la sua posa terminerà alle 14 bene la posa in quanto tale sta below the line e sotto la riga gli viene pagata su base empals perché è un attore sta lavorando nello spettacolo gli viene pagata mettiamo l'accordo e allora tu prendi 100 incontanti più i versamenti empals che faranno altri 110 alla impresa per il below the line mi costi tot però un bravo attore vogliamo la prestazione di qualità da lui allora ci accordiamo questo è sempre the line above the line è la parte di partecipazione è quella che ragazzo mi dispiace i soldi adesso non ce li ho però dal primo euro di incassi tu ricevi l'x% degli incassi di questa produzione è chiaro? quindi below the line pago il lavoro al suo livello minimo cerco di stare più basso possibile e above the line lo faccio partecipare con una quota sullo sfruttamento del prodotto una volta terminato e messo sul mercato si è la stessa cosa questo qui siamo nel cinema tradizionale possiamo applicarlo siamo liberi di applicare questa cosa chi viene dal cinema conosce questa cosa chi invece viene da altre arti o altri mestieri non la conosce per cui mi è sembrato giusto dirvela vi ripeto che rispetto al cinema abbiamo un minimo di favore in più sul montatore nel senso che nel cinema al montatore non posso proporre questo contratto nel contenuto digitale invece sì perché considero il montatore come autore di una base di dati il montatore sono tante ore ok andiamo ancora un pochino ve la sentite di andare ancora un pochino più a fondo sulle associazioni in partecipazione se ci sono domande nel frattempo fatele perché devo andare a cercare i caratteri piccoli prima di proiettarmeli niente andiamo avanti le tipologie di apporto l'angolo in basso a sinistra l'apporto può consistere in una somma di denaro escludiamolo questo è rarissimo che succeda in una può essere ma generalmente non accade nel nostro caso in un bene mobile o immobile in proprietà o in godimento questo sì ieri Andrea mi parlava di una produzione nella quale era messo in gioco da una parte una vettura automobile e da un'altra parte una camera di ripresa ecco e in opera lavorativa questo professor Baroni qui non pensava al contributo in ingegno aggiungetelo sotto punto 4 contribuzione in ingegno contribuzione creativa contribuzione in ingegno diritti di sfruttamento del output del prodotto finale può starci ci entra in maniera del tutto legale lui pensava a cose diciamo di vecchia industria non considerava questo aspetto qui questo aspetto invece è importante francamente se io dovessi dire le tipologie di apporto nel quadro della cosa che stiamo discutendo adesso girerei tutto all'incontrario punto 1 in ingegno punto 2 in lavoro fermo restando che in certi casi il lavoro invece lo metto su empals e lo pago subito che mi sembra fin più giusto più pulito ci evitiamo dei guai con empals e con l'agenzia delle entrate punto 3 ingodimento di strumentazioni varie punto 4 in denaro non ce credo quindi saltiamo l'apporto in denaro del resto l'apporto in denaro è facilissimo da calcolare quando c'è va bene è tassato secondo norme non vi farei perdere tempo là sopra può essere abbastanza interessante guardare queste due tabelle di differenze con il lavoro subordinato specialmente per chi ha su una impresa o sta per metterla su colonna di sinistra quadrato di sinistra colonna di sinistra nel lavoro subordinato c'è presenza del vincolo di subordinazione e nel lavoro associato c'è assenza del vincolo di subordinazione di là c'è il lavoro retorico che ha diritto alla retribuzione lasciamo perdere l'articolo 36 della costituzione che tutti l'hanno stracciato comunque sia ha diritto a una retribuzione quale sia la minima ancora da accertare nel regime italiano di là c'è un'assenza di retribuzione il rischio di impresa ricade sul datore di lavoro qui l'associato assume il rischio di impresa e sopporta le perdite abbiamo già visto prima però nella misura massima del valore del proprio apporto il datore non mostra il rendiconto al lavoratore subordinato nel caso del lavoro subordinato invece l'associato ha diritto di ottenere dall'associato dall'associante il rendiconto dell'affare seguiamo nel quadrato di destra il lavoratore subordinato ha certezza di guadagno di là c'è dichiarata assenza di certezza il lavoratore subordinato non ha potere di controllo l'associato ha diritto di controllo l'osservanza di un orario di lavoro assenza di tale vincolo anche se ammesso qui la cosa è diversa è il risultato se ti associo perché tu mi faccia HTML5 secondo determinati criteri di qualità entro il devo ricevere HTML5 secondo quei criteri di qualità entro il non siamo in un paese di ben godi c'è la disciplina del contratto di associazione è possibile la retribuzione con utili ma non assume rischi di impresa nel caso del dipendente e dall'altra parte solo partecipare in partecipazione agli utili e rischi limitati all'apporto bene con questo più o meno io credo che il discorso sui contratti di associazione in partecipazione lo abbiamo visto manderò alla direzione della scuola il file in modo che possiate approfondire questo che comunque è e resta un bignamino al 13 di dicembre a Torino proviamo a mettere insieme ma è questo un lavoro che possiamo magari provare anche qui oggi proviamo a mettere insieme tre elementi uno è proprietà intellettuale diritto d'autore copyright contribuzioni in ingegno dentro ai contratti di associazione quindi abbiamo da una parte l'universo della proprietà intellettuale universo complesso ma tutto sommato rispondente alla semplicissima regola di dare a Cesare quel che è di Cesare dall'altro abbiamo non dirò un modello ma uno schema che è quello dell'associazione in partecipazione che anche tutto sommato è basato su questo stesso dare a Cesare quel che è di Cesare poi avremo a Torino non certamente qui oggi le problematiche fiscalistiche e giuslavoristiche connesse su quelle sono perso quanto voi quindi è meglio che ci sia un buon consulente con il quale ragionare quindi cerchiamo magari se volete su questi punti nel dibattito in classe o fuori dalla classe magari di mettere a punto delle bozze di schema che in qualche maniera possano aiutarvi ad andare avanti con i vostri progetti questo è sempre il rischio e su questo direi di fare 5 minuti di intervallo sono le 12.05 possiamo fare due minuti sì sì 5 minuti poi facciamo pranzo adesso dopo l'uno e mezza l'uno e mezza diciamo la bene per tutti l'uno e mezza a chiudere il primo disegno dell'associazione in partecipazione noi abbiamo chiesto a una banca a Torino non a San Paolo sorry non a Unicredit sorry l'abbiamo chiesto a Banca Sella che voi non conoscete probabilmente conoscete bene è una piccola banca familiare non è retta da una fondazione non è beneficata dalla legge Amato non ha i politici dentro ragiona in termini concreti di dare avere e non a caso sono loro a quel che mi risulta dal mio sguardo nord-ovest forse voi dal vostro sguardo sud-est me ne sapete consigliare altri e saremo attenti perché è giusto che il mercato sia aperto e concorrenziale dal mio punto di vista per quel poco che conosco sono la banca più evoluta in Italia nel campo dell'e-commerce allora perché poi stiamo parlando di contenuti che devono andare in rete e devono essere venduti per non essere dei gadget quindi chi è che li vende chi è che si prende i numeri delle carte di credito chi è che distribuisce i soldi come funziona tutto questo bene facciamo un po' di fantascienza perché tutte le cose di cui parlo nei prossimi tre minuti non sono ancora in atto se tu vuoi vendere dell'acqua minerale online oddio dubito che sia un oggetto da e-commerce comunque sia di servizi e-commerce per i pagamenti per gli ordini eccetera ce ne sono se vuoi vendere un contenuto cominciamo un pochetto a scarseggiare c'è una complicazione in più se questo contenuto l'hai realizzato in un'associazione in partecipazione come questa che abbiamo visto fino a questo momento alla banca devi chiedere anche un servizio in più quando riceve il famoso primo euro di spezzarlo in tante monetine e di mandarla a tanti indirizzi diversi ecco questo è un servizio davvero nuovo è una sfida che il nostro mondo pone al mondo bancario evidentemente come sempre quando ti passano dei soldi tra le mani un po' restano appiccicati una misura equa se equa è equa deve essere negoziato questo deve essere negoziato all'interno di questa misura equa il costo che la banca sopporta per ingegnerare il sistema di distribuzione sistema che in inglese chiamano il lavoro di collecting agency attenti quando andate poi su internet a cercare le collecting agency che vi confondete con le collector agency che sono quelle che recuperano i crediti è un'altra cosa la connecting agency è un'agenzia alla quale gli associati nel loro insieme l'associazione in partecipazione delega la raccolta dei fondi quindi questa agenzia questa banca che funziona da agenzia viene incaricata di svolgere tutte le funzioni tecniche di identificazione sicura dell'utente pagante e la funzione di distribuzione di quanto percepito in cambio del diritto di accesso al contenuto da noi realizzato fra i vari associati alla produzione questo è veramente un bel tema ed è un tema che forse io non dovrei dire in una formazione ma la voglio dire con voi perché credo al futuro anche delle relazioni produttive è un tema che potrebbe interessare Horizon 2020 e sul quale noi voi con noi noi con voi potremmo essere nel momento in cui troviamo un disegno semplice ed equo per tutti la componente italiana di un grosso progetto europeo perché questa tematica qui non vede l'Italia maglia nera dell'Europa ma vede tutta l'Europa maglia nera alla stessa stregua quando i colleghi britannici hanno bisogno di collecting agencies vanno oltre atlantico non ce le hanno in Inghilterra in Inghilterra ce n'è una che che però segue soprattutto i quotidiani e non tanto le versioni internet dei quotidiani ma le forme di abbonamento eccetera quindi siamo su un campo nuovo per l'insieme dell'Europa e l'idea di poter lavorare forse noi che anche dal punto di vista del sistema bancario non è che siamo il paese più fortunato ma che abbiamo la fortuna specialmente su base territoriale di avere alcune piccole banche che ancora ragionano come se l'onorevole Amato non fosse mai nato cioè semplicemente di dare avere di commercio ecco ecco forse riusciamo a costruire qualche cosa anche in questo campo faccio notare a tutti che noi il nostro piccolo mondo di produzione di contenuti a parte il grande futuro che spesso sogniamo è comunque uno dei corridoi principali del principale programma di ricerca europeo che sta per nascere che si chiamerà Horizon 2020 orizzonte 2020 un programma la cui dimensione finanziaria si conta in miliardi di euro ovviamente è un programma che copre tutto l'insieme della ricerca scientifica e tecnologica europea ma la parte relativa ai nuovi mercati dei contenuti ai nuovi utilizzi dei contenuti alle nuove veicolazioni dei contenuti alle reti sociali dei contenuti alle reti partecipative tocca moltissime delle sue azioni adesso vi accendo il computer per darvi un'idea di quanto il web documentario sia un animale non so se altri vi abbiano già mostrato questo contenuto qui soltanto per darvi un'idea tra l'altro questo sono andato a pescarlo nel cimitero perché probabilmente è stato a sua volta superato da qualcos'altro io non sono riuscito a monitorare ricorderete tutti che nel 2010 la BP ha inquinato gravemente il Golfo del Messico successivamente a quel disastro ambientale la presidenza degli Stati Uniti dato che la cosa toccava più stati non toccava soltanto la Florida o soltanto non ricordo quali siano gli stati che insistono all'intorno quindi la cosa era di competenza federale ha nominato una commissione di inchiesta quella commissione di inchiesta che ha lavorato per circa un anno nell'individuare le cause e nel cercare il modo per il futuro di prevenire incidenti analoghi a quello sapete come ha consegnato la propria relazione così cioè ha fatto sia ovviamente un dossier cartaceo che è stato messo agli atti in maniera tradizionale sia un web documentario che contiene i principali elementi su cui il dossier quindi permette per dire ad una corte popolare di capire rapidamente e ai decisori di avere un sommario esecutivo di rapida comprensione e di facile gestione vi consiglio davvero di andarlo a cercare vi manderò questa lunga stringa precisandovi quando lo andate a vedere che ovviamente dal momento in cui è stato tolto dal sito del governo federale americano ed è stato inserito nel cyber cemetery i link esterni dal contenuto verso l'esterno non sono più validi ma tutti i link interni funzionano ancora perfettamente ecco qui abbiamo un esempio di web documentario che non si muove sul libero mercato ma che agisce su commessa e al servizio di un ente pubblico in questo caso addirittura di una funzione giuridica vi dico questo perché nel considerare l'ampiezza dell'applicabilità delle tematiche di ricerca del web documentario anche queste devono essere considerate oltretutto vedo che siete in un territorio dove spesso le soluzioni innovative sono considerate dalla funzione pubblica quindi magari potreste arrivare primi voi in Italia a proporre qualche cosa di interessante da questo punto di vista qui il punto non era propagandistico era individuazione di una verità individuazione di dati di fatto prima ignoti e poi resi pubblici va bene se noi consideriamo l'insieme delle cose che abbiamo toccato sino a questo momento vediamo dunque un ipotetico ambiente di ricerca nel quale delle piccole imprese innervate fra loro e associate secondo diversi schemi di associazione per la realizzazione di contenuti sviluppano dei contenuti e li importano e li portano sul mercato stimolando l'industria finanziaria al mondo delle banche a stare al loro fianco nella definizione di moduli di e-commerce adeguati a rapportarsi con le produzioni associate e la distribuzione di contenuti online ecco questo questa difficile espressione mi sembra che però contenga un anno di lavoro che possiamo avere davanti abbastanza stimolante adesso cercando di ragionare su quali possano essere i contenuti più adeguati per muovere i primi passi allora questo è un discorso semplifica qui il mercato non c'è questo è un contenuto che viene dato gratuitamente che è di servizio pubblico cioè cominciamo ad avere una visione una accezione ancora diversa anche diversa da Santoro della espressione servizio pubblico abbiamo abbiamo fatto fuori abbiamo messo a margine un servizio pubblico che deve necessariamente toccare delle audience estremamente allargate e quindi essere necessariamente superficiale e abbiamo considerato una funzione di servizio pubblico che trova la propria ragione di essere precisamente nell'approfondimento questa sarà la tematica che affrontiamo dopo pranzo guardando la qualità della non fiction per il mondo digitale che è l'altro aspetto che va che deve necessariamente andare insieme a questo tipo di contenuti adesso proviamo a immaginare perché il discorso come vi ho detto è totalmente sperimentale quali potrebbero essere le formule qui io sono aperto ad ascoltare e ne butto lì un paio che vengono dal nostro lavoro attuale non so se Elena abbia accennato ieri a cosa sta facendo Fairtrice nel campo editoriale in questi mesi no allora vi dico quali sono stati i nostri punti di partenza ci siamo detti abbiamo bisogno di mettere su alcuni contenuti che per le loro caratteristiche facciano comunità perché sostanzialmente vediamo nella evoluzione dello scenario web un bisogno al quale il web 2 e i social network esistenti rispondono in maniera insoddisfacente questo bisogno è quello di social network tematici strettamente legati alle comunità di interessi forse forse ci sarà un termine tecnico più adeguato per il momento questo ho e questo uso è arrivata giusta si accomodi dottore Savona dopo aver stressato tutti sulle associazioni in partecipazione stavo parlando di Fairtrides e dei suoi progetti ne abbiamo scelti tre di progetti ovviamente perché ci piacciono ma anche perché pensiamo che la loro sostenibilità possa fondarsi su tre comunità diverse dei network tematici dei contenuti web 2 tematici a pagamento che rispondano ai bisogni sociali di aree della popolazione mettiamola così non riesco a darvi una definizione scientifica sociologica cioè individuando un target ben preciso di persone comuni in questo senso tre comunità una è quella dei risparmiatori ci rivolgiamo a loro il più contropelo possibile gli facciamo vedere come sono stati li informiamo su come sono stati spesi i soldi del sistema del treno ad alta velocità in questo paese come sono state prese le decisioni e quali debiti si sono costruiti per il futuro al di là del sentimento che io provo altri possono non provarlo in merito allo specifico come voi sapete la nostra regione è molto divisa su questo argomento dico al di là del sentimento c'è comunque un dato di fondo molto concreto sino a questo momento il treno ad alta velocità in Italia l'intero sistema del treno ad alta velocità in Italia è costato 100 miliardi e 100 miliardi sono ben più che una leggina di stabilità te la fanno te la fanno tremare la stabilità se a questo si affiancano le modificazioni intervenute a partire dal 1990 circa la proprietà delle banche che furono pubbliche nelle mani delle fondazioni bancarie le leggi che si sono introdotte in merito alla definizione di opere strategiche e di procedure per l'approvazione e il finanziamento di opere strategiche il sostanziale la sostanziale privatizzazione del risparmio postale attraverso la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in S.P.A. nel 2003 se non erro la stessa modificazione del titolo quinto della Costituzione che porta le responsabilità della sanità a livello regionale anziché a livello centrale con alcune conseguenze molto negative sul piano dell'erario che si sono registrate e beh è un insieme di dati che permette alle numerose famiglie italiane che fortunatamente dispongono di risparmi di fare una riflessione e di cercare una via di correzione degli errori non ci sono risposte preconfezionate a questo argomento la dinamica partecipativa è essenziale è davvero essenziale non tanto e non solo per rispondere a delle idealità tipo democrazia diretta eccetera ma per raccogliere conoscenza per distribuire e rielaborare conoscenza non è tanto un punto di alza la mano chi è favorevole abbassa la mano chi è contrario è un punto di fino adesso siamo andati avanti un po' a caso e un po' obbedendo a delle lobby che ottenevano i risultati voluti nascondendoli variamente in leggi omnibus in dichiarazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti eccetera sono passati più di 20 anni e l'Italia non è più così solida come era usiamo gli eufemismi bene questa è la prima realtà alla quale come la misuriamo Repubblica qualche giorno fa diceva in Italia abbiamo correggimi un milione e mezzo di risparmiatori che hanno un risparmio superiore a un milione di dollari presumibilmente abbiamo altri circa 3 milioni di risparmiatori che dispongono di risparmi superiori ai 200 mila euro soprattutto questa seconda fase questa seconda fascia oh mi sta vivendo gli attriti non è mica poco preoccupata e qualche riflessione in merito ecco bene costituiamo la comunità dei risparmiatori che si parlino già secondo tema in Italia circa 30 mila famiglie hanno visto partire il loro infante bambini in età scolare dalla famiglia per incapacità genitoriale incapacità genitoriale una definizione viene è una definizione che è arrivata dall'altra parte dell'Atlantico nei primi anni 90 se non ero che poi è stata rinnegata sia dall'altra parte dell'Atlantico sia qui largamente rinnegata ma che per quelle strane coincidenze della vita è continuata a rimanere nelle procedure dei tribunali minorili lungi da me dire delle cose demagogiche stile scientologi che dice nessun bambino mai più sottratto alla famiglia perché oggi in Italia l'unica organizzazione che si preoccupa di questo argomento è di scientologi appartiene scientologi uno slogan semplicista in questo caso evidentemente non è possibile cioè la cronaca di tutti i giorni ti dice che ci sono dei casi in cui è solo giusto togliere certi minori alle famiglie però che questi minori si sottraggano le famiglie a partire da un concetto di incapacità genitoriale che è stato rinnegato dai suoi stessi autori ecco tra un eccesso e l'altro c'è in mezzo una riflessione seria che le famiglie interessate i giuristi e varie persone di buona volontà che possono avere qualche cosa di sensato da dire in merito potranno condurre attraverso questo documentario interattivo partecipativo il terzo universo che stiamo sfiorando è quello della nuova agricoltura come vedete abbiamo cercato di scalare le cose e in questo qui di metterci più dalla parte del costruttivo del guardare un futuro potenziale prego sono stati i processi utili per individuare questi target più biologici che professionali sì cioè il tema interessava c'era qualcuno che portava un contributo di esperienza di conoscenza di connessione e ci è parso ma cioè ste cose dico lui che è cineasta da tanto tempo dice ma perché racconti ste cose che non le hai ancora fatte perché sono qui a parlare di posizioni scomode e allora cioè non lo so magari fra un anno ci rivediamo e guardiamo a che punto siamo riusciti ad arrivare in tutti i modi per cercare di trasferirvi non quanto stiamo facendo ma le coordinate logiche su cui stiamo cercando di muoverci in buona fede e con spirito costruttivo non so come cavolo dirla ecco questo della nuova agricoltura riguarda la trazione animale in agricoltura voi direte ma questi sono pazzi vogliono tornare al medioevo no e tutto è iniziato da una quindicina di anni quando un'associazione francese ha ricevuto un aiuto europeo per insegnare a contadini africani come si potessero utilizzare gli animali che loro avevano sempre utilizzato in agricoltura anziché con aratri che pesano 800 kg con macchine che ne pesano 50 o 60 diminuendo enormemente lo sforzo ed aumentando la produttività dell'animale questi qui è un gruppo non proprio una ONG un gruppo che voleva agire a favore dell'agricoltura africana si sono messi lì con i fabbri e con i cineasti e hanno fatto una quantità di strumenti con materiali moderni molto più funzionali degli strumenti atavici hanno filmato le loro modalità costruttive e anziché esportare aratri leggeri dalla Francia all'Africa gli hanno mandato il filmetto e te guardi il filmetto e se sei capace a usare una saldatrice dopo due giorni il gioco è fatto a partire da questo sono venute fuori o meglio a partire da questo è venuto fuori un movimento che anche in Italia e in vari altri paesi ha cominciato a costruire questi strumenti ad affrontare il discorso su questi strumenti rovesciando il concetto cioè trasferisci il sapere invece di trasferire l'oggetto dall'altra parte questo si è sposato con il fenomeno che fortunatamente tutti viviamo nelle campagne di giovani laureati in agraria che partono mettono su un'impresa da 6-7 ettari e ci realizzano vera qualità del cibo senza utilizzo di certi di certi di certi di certi supporti chimici e quant'altro in questo caso non c'è nemmeno un goccio di petrolio il debito per l'acquisto di macchine viene ridotto drasticamente al livello di rapporto 1-100 non 1-10 perché tu attrezzi una superficie di 7 ettari la attrezzi con circa 10.000 12.000 euro di spesa faciliti gli interscambi e quindi la connessione a rete tra i nuovi agricoltori eccetera e anche qui qui siamo su un ambiente qui questo contenuto lo facciamo in associazione in partecipazione con un'associazione di coltivatori di cui sono membri 700 imprese quindi nasce dall'inizio con un universo molto ristretto abbiamo visto i risparmiatori le famiglie e qui invece sono un numero ristretto di imprese però crediamo molto nelle dinamiche di questi materiali prego immagino voi abbiate avuto qualche difficoltà inizialmente a convincere le imprese che era una cosa utile per tutti di scambiarsi expertise no? no ah proprio sono stati no perché sono tutti giovani sono tutti aperti e per certi versi sono anche tutti inesperti non inesperti del nostro campo tante volte parliamo con delle persone che sul piano internet eccetera ci rispondono alla grandissima sono inesperti di agricoltura e quindi uno strumento di questo genere lo vogliono perché gli dà formazione anzi ci hanno suggerito tantissimi contenuti ai quali noi non avevamo pensato minimamente quindi bisogna lavorare con le imprese giovani insomma assolutamente e l'estensione di questa cosa cioè io voglio precisare una cosa vi ho parlato di questi tre progetti non soltanto perché diciamo penso sia il mio dovere venire qui e trasferirmi il sapere che ho ma anche come invito collaborativo di potenziale associazione in partecipazione su questi contenuti perché chissà che cosa può uscire dalla Puglia ci sono aziende Pugliesi dentro alla rete con cui noi abbiamo siglato l'intesa di associazioni in partecipazione però ce ne sono tanti altri che di quella associazione lì non sanno neppure l'esistenza quindi ci sono probabilmente altre associazioni che si occupano di questa tematica è un mondo talmente letteralmente distribuito sul territorio che ogni nuova connessione che riusciamo a generare può essere preziosissima c'è il fatto di costruirsi le macchine come una specie di autoproduzione uno non compra le macchine no non necessariamente uno se le deve fare pensavo un po' al PIL funziona come parametro un po' diverso cioè tutto questo meccanismo chiaramente non fa crescere il PIL però va a vantaggio di chi lo fa una riflessione solo ad alta voce perché io non sto investendo in qualcosa non sto comprando qualcosa però con un budget ridotto riesco a mettere su qualcosa di forse importante che possa crescere io ho colto questo poi sarà probabilmente il primo anno di vita del contenuto che ci farà capire meglio però ho colto che ci sono almeno due approcci diversi tra i diversi agricoltori c'è chi ha l'approccio faccio tutto io perché sono capace di farlo e c'è chi ha l'approccio no ma io lo compro da te questo strumento tu sai farlo io non ho tempo non ho voglia non sono capace quindi l'idea di un diciamo che non stiamo cercando di veicolare un valore di totale autosufficienza di autarchia quasi delle imprese direi che quello che tutti ci chiedono è di aiutarli a definire un mondo nel quale l'autogoverno delle nuove imprese biologiche possa essere facilitato però senza dogmi se A compra da B la fattura l'IVA tutto il necessario il punto non è immaginarsi proiettarsi in un mondo nel quale questo tipo di obbligazioni non esistono più anzi molte imprese sono molto sensibili alla necessità di di agire in un contesto di piena legalità e uno dei servizi che richiedono al web documentario come federatore della comunità è precisamente quello di aiutarli ad ottemperare le leggi in maniera corretta ed evidentemente economica questo quindi il web documentario in questo caso funge anche la cassa di risonanza di questa cosa si cioè come si veicola questo messaggio perché chiaramente avrà bisogno di una certa di una spinta perché possa riformarsi non ho capito se il web documentario svolge anche questo ruolo o è solo un ruolo informativo oppure come pensate di veicolare il messaggio stesso lo capiremo strada facendo anche questo l'impressione che a me sta venendo sempre più forte che a me grazie